Il corso ITS Academy Interior e Product Design si svolge a Pesaro all'interno di un polo tecnologico che si chiama Cosmob, un polo tecnologico dedicato all'arredamento. Da nove anni si svolge questo corso che è un corso post diploma, un'alternativa all'università e dura due anni. Sono in tutto 1800 ore di cui 900 ore si fanno in aula tra lezioni frontali e laboratorio e altre 900 ore si svolgono presso le aziende e gli studi del settore. Perché è nato questo corso, questa tipologia di formazione a Pesaro? È nato perché sul distretto industriale di Pesaro era necessario avere figure professionali con una specializzazione particolare, quella del disegnatore progettista, con un focus principale sul mobile e sull'arredamento. Ma in realtà gli studenti che escono dal corso hanno una preparazione tale che possono essere impiegati in qualsiasi settore, naturalmente come disegnatore. Abbiamo portato molte modifiche negli ultimi anni proprio per aiutare e per allinearci alle esigenze delle aziende. Abbiamo introdotto infatti anche una parte piuttosto importante sull'interior design e sul marketing. Quindi lo studente al termine dei due anni dovrà sostenere un esame importante che dura circa tre giorni e sarà in grado di lavorare presso studi di progettazione e aziende del mobile. Al termine del corso tutti gli studenti che hanno superato l'esame hanno due tipi di attestato, attestati molto importanti. Uno è dato dal ministero della pubblica istruzione e l'altro dalla regione Marche ed è un Europass. Quindi vuol dire che il corso è un corso del ministero, quindi con tutto quello che riguarda la serietà, una tipologia di corso particolare. È una valida alternativa alle università in quanto dura due anni e ti permette di avere un attestato di quinto livello. Il sesto livello è la laurea. Nel programma didattico e oltre alle materie pratiche e teoriche abbiamo un potenziamento della lingua all'estero, della lingua inglese, che si svolge presso una scuola AM di Malta. Inoltre questo corso è un corso che fa parte della fondazione ITS Marche Academy ed è uno dei sette corsi che si svolgono in contemporanea in tutta la regione Marche. Naturalmente questa tipologia di corso viene attivato solo ed esclusivamente dove c'è una ricaduta occupazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che qui a Pesaro, essendoci un importante distretto del mobile, non poteva che nascere un ITS dedicato al design per l'arredamento. È un corso di taglio pratico, tutti i docenti diciamo hanno esperienza nel campo dell'arredo nel quale noi cerchiamo di insegnare le materie principali per preparare le ragazze ad essere pronti ad entrare in azienda e poter essere subito operativi o operativi con poco impegno da parte dell'azienda. Per questo insomma i ragazzi che frequentano il corso l'85 per cento dei ragazzi circa trova lavoro dopo sei mesi insomma dopo il corso insomma. Si fa teoria ma si fanno materie pratiche nel senso che possiamo intendere come materie di progettazione quindi studio di software che possono essere software di modellazione tridimensionale parametrici, software di bidimensionali e quindi software che insegnano la modellazione vettoriale e la parte pratica a tradurre questo progetto informatico in un prototipo all'interno del laboratorio di fabbricazione che abbiamo qua in azienda. Il corso si svolge al Cosmob che è un centro tecnologico di riferimento per tutte le aziende del legno arredo, laboratorio di test ma anche centro di ricerca per i temi del legno arredo e ente di certificazione di prodotto quindi è diciamo così lab che può essere più indicato per dare una formazione professionale ai ragazzi che poi andranno a lavorare in aziende del settore.